Ha toccato quota 2.800 sottoscrizioni la petizione Salviamo la rassegna di cinema estivo Aldaturi lanciata su change.org. Una mobilitazione online promossa per esprimere apertamente il desiderio che la manifestazione Cinema Sotto le Stelle, organizzata da Cinemaniaci a Piacenza durante la stagione estiva, continui a esistere e il disappunto, la disapprovazione e la disistima per la eventuale cancellazione o ridimensionamento. Per ora il Comune non torna sull'argomento. Nel frattempo c'è tensione dopo che nella notte tra domenica e lunedì alcuni striscioni contro la giunta comunale sono stati appesi ai cancelli del Datturi e di Spazio 4 e anche di fronte all'ex Belville ora spaziali alla lupa. Su questo caso il deputato piacentino Tommaso Foti di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno. Grazie a tutti.